Le principali strategie per superare le sfide della decarbonizzazione nel settore energetico al centro dei lavori nell'ambito della settimana europea delle regioni delle città in corso a Bruxelles. Amministratori locali e parlamentari hanno presentato le soluzioni più adeguate per incoraggiare il cambiamento comportamentale degli stakeholder e promuovere la transizione energetica. Draghi fu il primo a introdurre il Ministero della Transizione Ecologica e la parola transizione che va interpretata nel senso corretto che sta a testimoniare che come è irrinunciabile un nuovo atteggiamento per la tutela dell'ambiente dall'altra parte per arrivare a quell'obiettivo dobbiamo compiere dei passi di grande equilibrio perché non possiamo compromettere l'industria dell'auto perché vorrebbe dire compromettere migliaia di posti di lavoro. Che lo Stato investe risorse importanti pubbliche per favorire la rottamazione per sostenere l'elettrico ma dall'altra parte a fronte di questo impegno del pubblico ci deve essere un impegno del privato. L'impegno del privato per l'Italia vuol dire Stellantis perché è l'unico costruttore che noi abbiamo nel nostro paese ma che deve incrementare la costruzione dei propri veicoli. Dobbiamo fare più macchine in Italia almeno di quante Stellantis ne produce in Francia e questa operazione si riesce a fare con uno sforzo congiunto governo, regioni, azienda ed è quello che finalmente sta avvenendo a tutela di tutta l'Italia e anche di quell'area dell'Abruzzo estremamente importante e significativa e che al pari del Piemonte, al pari dell'Emilia Romagna al pari della Basilicata, della Puglia e delle altre regioni dell'auto deve essere tutelata.